Questa unità didattica conclude il modulo dedicato alla pianificazione. È dedicata a illustrare alcune tecniche che serviranno per poter utilizzare l'approccio che abbiamo visto in casi concreti, in casi realistici. Innanzitutto facciamo notare che nelle unità didattiche precedenti non abbiamo preso in considerazione il concetto di ricerca best first. In pratica la pianificazione che abbiamo visto implementava un algoritmo di ricerca che utilizzava la depth first con la eterated deepening per imitare una breadth first. Quindi la ottimale del piano trovato era semplicemente legato all'ipotesi che tutte le azioni hanno un medesimo coso e quindi si trattava di fare meno azioni possibili. Ma in generale le azioni hanno un costo, gli stati hanno un costo e quindi avere a disposizione una conoscenza euristica per facilitare la sintesi del piano ottimo potrebbe essere utilizzata. Solo che nella pianificazione il concetto di euristica diventa davvero un concetto molto articolato perché chiaramente dipenderà dal dominio in cui la pianificazione viene posta in essere e quindi la trattazione di un euristica ovviamente specifica uscirebbe dal ruolo di un corso di introduzione alla pianificazione. Però possiamo nel ribadire l'importanza dell'euristica, del concetto di euristica per poter far sì che un algoritmo di intelligenza artificiale possa essere realmente utilizzato in pratica. Nel ribadire ancora questa importanza quello che possiamo cercare di fare è inquadrare più o meno in quali modalità potrebbero essere in qualche maniera utilizzate le euristiche. E qui ne riporto tre. Innanzitutto l'euristica potrebbe essere utilizzata per ordinare i goals. Ovviamente si incomincia sempre a costruire un palazzo a partire dalle fondamenta. Anche la pila che abbiamo visto nelle unità di atti precedente aveva chiaramente un ordinamento implicito dei goals. Prima bisognava mettere B su C e poi bisognava mettere A su B perché come abbiamo visto la sequenza inversa non sarebbe stata potuta essere di fatto compiuta e quindi o un'euristica che ci dia una misura di quanto sia difficile portare a termine una sequenza di goal piuttosto che un'altra e quindi che ci possa essere utile per ordinare la successione della presa in considerazione dei goals, certamente potrebbe essere utile. Ancora, come sappiamo, c'è la possibilità che più operatori possano conseguire lo stesso goal potrebbero avere lo stesso goal nella loro head list e quindi un euristica che ci indichi eventualmente con quale probabilità di miglior piano potrebbe essere utile selezionare un operatore piuttosto che un altro per conseguire un medesimo goal ovviamente sarebbe utile. così come un'euristica che ci consentisse di ordinare gli operatori basta la facilità e di soddisfazione delle loro precondizioni. E ancora da ultimo, in un senso un po' più tradizionale, l'euristica potrebbe essere utile per valutare il costo dello Stato nel senso che quello Stato in cui, facendo per esempio una pianificazione all'indietro, dovessimo in qualche maniera arrivare quell'insieme di goals incorrenti, quanto è distante dallo Stato di partenza? che è il concetto classico di euristica che abbiamo visto nel cerchio dello spazio di Stato utilizzata al contrario però nelle mie analisi. Cioè in generale comunque l'euristica potrebbe essere utilizzata per valutare il costo dello Stato. Quindi avendo a disposizione di euristica questo sarebbe il modo per utilizzarla. Un altro modo, cioè un altro concetto importante per andare verso l'applicazione della pianificazione in contesti reali è quello della separazione del dominio in sezioni indipendenti. I nostri pianificatori hanno sempre sequenzializzato completamente le azioni anche quando questi erano indipendenti fra di loro e potevano essere compiute in parallelo. Ma poiché la complessità della pianificazione come della ricerca in generale è esponenziale nella lunghezza del piano, scomporre il problema in sottodomini indipendenti comporta un aumento esponenziale delle prestazioni. Qui nella figura abbiamo due gruppi di blocchi che sono distinti. Gli obiettivi che abbiamo sono impilarli come da grafica, è evidente che l'interleaving fra mettere A su B e mettere D su E è del tutto indipendente. E cioè il pianificatore, come abbiamo conoscito attualmente, concepirà una sequenza delle azioni per impilare i due gruppi separatamente. Ma in realtà molte di queste azioni che siano realmente fatte in quella sequenza è del tutto ininfluente. Mentre è importante mettere prima B su C, come abbiamo precedentemente ricordato, e poi A su B, chiaramente c'è questo vincolo su un gruppo di blocchi, non c'è nessun vincolo fra mettere prima A su B un vincolo di precedenza temporale e mettere poi D su E e viceversa ovviamente. Quindi sono totalmente indipendenti. Allora, un concetto importante è quello di frazionare i domini dove lavora la pianificazione in contesti del tutto separati, in cui le azioni possono essere concepite senza un ordine. Questo modo di approcciare la pianificazione si chiama pianificazione non lineare, perché l'ordinamento delle azioni è un ordinamento parziale e non è un ordinamento completo. È un ordinamento parziale, più è parziale questo ordinamento e più sarà facile trovare una soluzione. Quindi i pianificatori che sono utilizzati nell'intelligenza artificiale in ambiti reali, ci sono quasi tutti i pianificatori a ordinamento parziale. Noi non li vediamo in questo modulo introduttivo sulla pianificazione. Altre capacità avanzate che devono avere i pianificatori per poter operare in contesti realistici, ne ne richiamo qui alcuni. Parto dal teso, qui la pianificazione gerarchica sostanzialmente è l'applicazione del concetto precedente, cioè del pass all'order planning, però applicato non su un piano orizzontale, diciamo così, in cui i due o più frazionamenti del dominio sono presenti sullo stesso livello di astrazione, ma sono su livelli di astrazione verticali. E questo si chiama pianificazione gerarchica. E quindi, per esempio, concepire tutta la sequenza di operazioni che potrebbe portare allo spostarsi dal proprio ambiente di lavoro alla propria casa o viceversa, anche coinvolgenti l'utilizzo dell'automobile. Un piano così complesso, se volesse essere svolpato a un solo livello di dettaglio, su un unico piano di dettaglio, ovviamente comporterebbe una sequenza di azioni che renderebbe del tutto impraticabile la pianificazione. Ma se lo si potesse scomporre, se lo si può scomporre per livelli di astrazione concettuali e applicare ciascun livello di astrazione, che a questo punto sarebbe indipendente da quelli superiori a quelli inferiore, o una pianificazione indipendente dagli altri, e quindi sostanzialmente applicheremmo una concezione verticale del pass all'order planning, la chiameremmo questa qui pianificazione gerarchica e sicuramente avremmo maggiori probabilità di poter sintetizzare un piano utile. Tornando invece al primo punto, potremmo avere un uso più o meno approfondito di teorie causali, come abbiamo cercato di vedere anche nell'unità didattica precedente, quando abbiamo introdotto il concetto di stati impossibili, di insieme di goals impossibili, per la verità. Più abbiamo delle teorie causali, questo non è detto che ci possa essere un vantaggio lineare, perché poi dopo andare veramente a valutare la possibilità o l'impossibilità di uno stato, piuttosto che un insieme di goal, a seconda che se pianifichiamo in avanti o pianifichiamo all'indietro, potrebbe essere stessa una questione complessa. Potrebbe essere una questione complessa, ma potrebbe ridurre il branching factor della ricerca, quindi un po' quando abbiamo a suo tempo valutato i provi contro dell'euristica, anche qui avere una teoria causale del dominio potrebbe essere utile per ridurre il branching factor. Bisogna vedere quanto costerebbe poi dopo poterla realmente mettere in pratica, perché chiaramente se avessimo delle teorie causali che sfruttano tutta la potenzialità della logica primordine, quindi con quantificatori esistenziali o soprattutto con un simbolo di funzione, avremmo dei problemi computazionali non indifferenti. L'analisi delle risorse, non abbiamo preso in considerazione il fatto che ci possono essere delle risorse consumabili, quindi andare a seguire un certo piano piuttosto che un altro se abbiamo una quantità di benzina limitata e quindi che ci consentirebbe un certo piano di superare una montagna, un altro piano invece di aggerare la montagna, ovviamente dovremmo tenere presente che chiaramente il secondo piano sarebbe migliore del primo, però questo fa riferimento al concetto di risorsa consumabile che non abbiamo introdotto in questa trattazione della pianificazione. Poi definizione parziale di variabili mediante vincoli, quindi l'utilizzo dei constraint, questo sarebbe poter utilizzare anche dei metodi che derivano dalla ricerca operativa, per esempio la risoluzione di sistemi di equazioni, questo potrebbe in certi casi semplificare, rendere più efficace la pianificazione. Poi il concetto più importante qui in questo slide è la possibilità di poter alternare la pianificazione alla ripianificazione, cioè la pianificazione a monitoraggio per eventualmente fare la ripianificazione, correzione dei piani anche mediante conoscenze euristiche e consente di adattare un piano a situazioni modificate per intervento di altri agenti e questo anche potrebbe fare la differenza fra un pianificatore che possa essere utilizzato in un contesto dinamico e uno che invece non potrebbe. Qui ho riportato una tabella vecchia, molto vecchia di vent'anni, di pianificatori di una ventina di anni fa dove si vede che già nei primi dieci anni di sviluppo della teoria della pianificazione dall'originario Stripes si era andati a quell'epoca a Saip che era il pianificatore che più di tutti incorporava e meglio di tutti incorporava i parametri che ho in maniera succinta descritto adesso. Io adesso vorrei chiudere l'argomento della pianificazione appunto focalizzando sul concetto di ripianificazione perché uno dei problemi classici appunto della pianificazione è il fatto che l'abbiamo richiamato nella prima unità didattica il frame problem e il demification problem sono problemi che nascono dal fatto che questo approccio classico della pianificazione suppone che le uniche cose che cambino a seguito dell'accompagnamento dell'azione sono quelle esplicitamente elencate nella ideal list questa è un'assunzione ovviamente molto stringente perché non possiamo sapere esattamente tutte le cose che cambiano nel mondo in seguito a compagnamento dell'azione punto primo punto secondo in fase di esecuzione il piano di azione deve essere monitorato perché potrebbe essere modificato anche a seguito dell'azione di altri agenti che operano nello stesso mondo quindi da un lato la modellazione delle azioni mediante gli operatori potrebbe essere primitiva e potrebbe non poter più che essere primitiva potrebbe inerentemente non poter concepire tutte le possibili eccezioni all'idealist all'adletalist quindi frame problem ramification problem ma poi ci potrebbe essere a causa della dinamicità del dominio anche potrebbe essere che il complemento dell'azione comunque ha avuto degli effetti che sono stati prodotti non dalla gente che poi dopo va a eseguire il piano ma anche da altri agenti e dunque per fare la sintesi è importante poter in fase di esecuzione del piano non in fase di sintesi quindi ci siamo probabilmente totalmente cambiando di luogo di contesto quindi siamo già in fase di esecuzione del piano dover continuamente monitorare l'esecuzione stessa per verificare che lo stato del mondo corrisponde a quanto previsto in fase di sintesi del piano questo è un problema importante che è stato quindi dice che questo è un problema importante che può essere anche degli agenti che modificano lo stato delle cose e lo stato del mondo e quindi è importante che in fase di esecuzione il robot possa avere una sensoristica sufficiente per poter vedere se lo stato del mondo corrisponde a quanto atteso a quel punto dell'esecuzione di un piano ma siccome mediante i sensori si possono percepire tantissime cose è importante un meccanismo anche per focalizzare cose è importante controllare che sia ancora vero in una certa fase di esecuzione del piano allora questa è la matrice che in questa matrice triangolare raccoglie un po' i concetti l'idea fondamentale di questo monitoraggio con focus in qualche maniera dunque vediamo come si implementa come si costruisce questa matrice triangolare e qui abbiamo i sta per l'ascissa j per l'ordinata per i maggiore di 0 abbiamo quelle colonne sono intestate con le azioni del piano quindi nel nostro caso abbiamo il piano ottimo che abbiamo visto era un piano in 6 passi per impilare i 3 blocchi quindi unstack ci da mette giù c eccetera e abbiamo quindi le 6 colonne intestate con le 6 azioni per t nella prima colonna quindi per i uguale a 0 noi abbiamo ad ogni livello j i letterali presenti nello stato iniziale quindi sostanzialmente questi sono i letterali che stanno nello stato iniziale però ripartiti per livelli in maniera tale da considerare a ciascun livello quelli che dello stato iniziale che servono come precondizioni per la jesima azione cioè l'azione che corrisponde a quel livello per esempio nel primo livello qui and empty clear c on c a sono esattamente nello stato iniziale i 3 atomi ground che servono come precondizioni della prima azione a stack c da questi 2 servono come precondizioni della terza azione e questi qui a livello 5 c'è uno solo on table as come precondizione della quinta azione pk per i maggiore di 0 e g minore uguale a n invece t i j contiene letterali aggiunti dalla iesima azione che sovrappivano come precondizioni per la jesima per esempio put down c ha come azioni aggiunte da put down c il fatto che la mano robotica è libera e che c è clear ora che la mano robotica è libera servirà come precondizione per l'azione 3 e quindi lo mettiamo a livello 3 il fatto che invece c è libero servirà come precondizione per stack per mettere b sopra c e quindi siccome mettere b sopra c è l'azione 4 lo mettiamo a livello 4 così costruita la matrice abbiamo che la n più unesima riga no questo è ancora dobbiamo dire la n più unesima riga contiene i letterali introdotti dalle variazioni del piano che sopravviono come componente del goal originario quindi stack b su c ha come effetti quello di conseguire l'obiettivo on b c e quindi lo mettiamo sulla settima riga così come stack a su b ha come obiettivo quello di mettere a su b e quindi lo mettiamo nella settima riga ok i letterali sulla stessa riga di un'azione sono precisamente quindi a questo punto le sue precondizioni prendiamo un'azione qualunque per esempio la quinta pick up a ha come precondizioni undempty clear a e on table a i letterali sulla stessa colonna di un'azione sono le sue aggiunte che serviranno alle azioni successive o al raggiungimento dell'obiettivo per esempio prendiamo la 3 pick up b solo hold in b come conseguenza e quindi effettivamente questa serve poi per la precondizione l'ho già detto mi pare per l'azione numero 4 in generale per esempio unstack c da ha come effetto hold in c e clear a e questi due sono le due aggiunte di unstack c a che servono come precondizioni di azioni successive oppure per soddisfare un goal uno dei goal originari con queste premesse ecco qui l'affermazione importante l'intersezione fra la giiesima riga e le sue sottostanti con le colonne a sinistra della giiesima contengono le condizioni che devono essere verificate perché la parte di piano che va dalla giiesima azione fino all'ultima possa essere riposta in essere quindi qui per esempio è riportato in doppia riga l'intersezione la giiesima la quarta riga e le sue sottostanti quindi quarta quinta sesta e settima con le colonne a sinistra della giiesima quindi la 3 la 2 la 1 e la 0 andando a vedere tutti gli atomi dei componenti della base di Airbrand che sono contenuti in questo rettangolo e cioè dall'alto verso il basso e dalla sinistra verso la destra clear C holding B on table A e clear A ebbene questi sono i quattro fatti che debbono essere verificati dai sensori dopo il compimento dell'azione 3 per verificare che l'azione 4 l'azione 5 e l'azione 6 siano ancora fattibili se sono veri clear C holding B on table A e clear A allora supposto che siamo arrivati già a compiere la terza azione del piano siamo sicuri che possiamo portare a termine il piano perché i fatti che devono essere veri nel mondo perché la restante parte del piano possa essere portata a termine con successo sono ancora veri se per esempio avevamo già compiuto la quarta azione supponiamo per poter essere sicuri di poter compiere la quinta e la sesta sarebbe stato necessario verificare che on table A clear A and empty clear B e on B c erano ancora veri bene avendo con questo meccanismo per illustrare come fare il focus della sensoristica per poter durante un'esecuzione del piano sapere se quel piano che era stato sintetizzato offline può essere portato a termine o se è necessario invece concepire un nuovo piano perché qualcuno di questi fatti abbiamo dai sensori abbiamo rilevato essere false e quindi abbiamo una nuova percezione e quindi percepiamo che siamo in uno stato che non è quello dove avremmo previsto essere in base al piano che avevamo sintetizzato a questo punto abbiamo il quadro di qual è lo stato attuale lo prendiamo lo stato attuale come nuovo stato iniziale al volo riconcepiamo un nuovo piano per conseguire i goal originari e porno in atto il nuovo piano sempre con questo meccanismo di focus durante poi l'esecuzione bene con questo termina questa unità didattica che termina tutto il modulo dedicato alla pianificazione e nel prossimo modulo prenderemo in considerazione un altro concetto classico dell'intelligenza artificiale che è la diagnosi